Lo sfondamento del fronte a Monte Cassino, la rapida liberazione di Roma il 4 giugno e la rapida avanzata alleata in Toscana creano un clima quasi di euforia nel nord Italia. Si pensa che la liberazione possa essere imminente, sembra che l'avanzata alleata sia inarrestabile. Questo dal punto di vista partigiano propone il problema di come contribuire allo sfondamento alleato e alla vittoria finale e come contribuire da due punti di vista, uno militare, contribuire dall'interno alla liberazione delle grandi città del nord e da un punto di vista politico, cioè prefigurare una autonoma capacità italiana di ridisegnare la propria compagine statuale in forma democratica. Non essere in sostanza semplicemente oggetti passivi della liberazione da parte delle forze alleate. Questa è la prima considerazione. Concordemente con gli alleati si progetta l'insorgenza partigiana nelle città del nord. È una scelta che gli alleati compiono con convinzione specialmente dopo la liberazione di Firenze. La liberazione di Firenze è stata molto difficile per gli alleati. Ci si è resi conto di quanto fosse difficile il dominio di un territorio urbano sconosciuto nel quale il fascismo era fortemente radicato. È necessario che siano i partigiani a liberare dall'interno le città contestualmente l'avanzata alleata. E questo chiedono gli alleati al Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia e alle forze partigiane. Sulla base di questa scelta si proclama il concentramento in città delle formazioni partigiane pronte ad insorgere. E qui si pone un grande problema. Concentrare forze che per loro natura possono sopravvivere solo se sono disperse in un territorio ampio significa renderle vulnerabili. Significa trasformare un esercito guerrigliero in un esercito regolare. Ciò che non è possibile. La forza della guerriglia è colpire quando un nemico è debole e dissolversi quando un nemico si organizza. È chiaro che andare nella tana del lupo rischia di significare un confronto diretto che non è sostenibile da parte delle forze partigiane. E tuttavia la scelta è questa, perché bisogna avere forze all'interno delle città per insorgere al momento opportuno. Vi sono alcune formazioni partigiane anche nel nostro territorio che rifiutano di obbedire a questo ordine del Comando Unico Militare Emilia-Romagna della Resistenza che ritengono che sia troppo rischioso e preferiscono percorrere altre strade rimanere radicati nel loro territorio o attraversare le linee e unirsi agli alleati. Sappiamo cosa succede. La liberazione di Firenze 11 agosto segna un momento di rallentamento dell'avanzata alleata che viene confermata quando i tedeschi si attestano sul contraforte appenninico, sulla linea gotica, una linea di difesa molto articolata e complessa e in realtà non un'unica linea che va dal mare Tirreno in Bersiglia al mare Adriatico a Pesaro. riesce a mantenere una certa operatività all'ottava armata britannica che avanza lungo l'Adriatico, che lentamente libererà Pesaro e poi arriverà a Rimini e poi di concerto con una formidabile azione partigiana riuscirà a arrivare all'inizio di dicembre a Ravenna, ma poi lì si fermerà. Invece molto prima si arrestano le operazioni sul contraforte appenninico dove la Quinta Armata rallenta progressivamente la propria attività fino a che a fine ottobre ritirerà persino le proprie pattuglie e si fermerà completamente. Dopo 15 giorni viene reso noto il proclama Alexander, il comandante delle forze alleate in Italia, che dice ai partigiani cessate ogni attività, rientrate nelle vostre case perché l'avanzata riprenderà soltanto con la primavera. Per i partigiani questa notizia è vissuta in modo drammatico. Intanto sembra loro che gli americani non si rendano conto che non possono tornare a casa, che sono bruciati, che sono ricercati, che devono stare nascosti passivamente, ma soprattutto brucia la grande delusione per questa mancata avanzata autunnale. E infine i tedeschi ben consapevoli che gli alleati si sono fermati possono dedicare grande parte delle loro forze non più a contrastare l'avanzata anglo-americana, ma a contrastare la resistenza. È un momento in cui la resistenza è letteralmente sconfitta in tutto il Nord Italia occupato. Grandi rastrellamenti, grandi arresti, grandi fucilazioni, la resistenza si disarticola. Naturalmente ha sedimentato una tale capacità operativa e organizzativa che si ricostituiranno le formazioni partigiane, si ricostituiranno le reti di relazioni e i comandi rapidamente. Ma quello non v'è dubbio che è un momento di sconfitta. Cosa è accaduto in realtà? In realtà è accaduto che l'avanzata alleata si è fermata per motivi oggettivi. Il primo, si profila un autunno molto piovoso, il fango degli appennini, un fango argilloso, si rivela molto più pesante da superare del previsto. In secondo luogo, la opposizione tedesca, le difese tedesche sono molto più forti del previsto. Non è un esercito in rotta, è un esercito che tiene magnificamente dal punto di vista tecnico-militare. Terzo e più importante fattore consiste nel fatto che gli alleati decidono che la guerra la si vince arrivando rapidamente a Berlino. Il 6 giugno gli alleati erano sbarcati in Normandia. La liberazione della Francia avviene con grande lentezza. 6 giugno Normandia soltanto a fine agosto a Parigi. Da lì bisogna sostenere l'avanzata da est dell'Armata Rossa verso Berlino attaccando il corpo grosso della Germania. Ma lì le forze tedesche hanno una capacità di resistenza formidabile. Quindi vengono spostate dal fronte italiano tutte le divisioni possibili e spostate in Francia. dove i tedeschi scatenano addirittura la controffensiva sulle Ardenne quindi sono ancora molto forti. Il fronte italiano è diventato nella strategia alleata un fronte minore. Bisogna agire là. Per questo viene lasciata cadere ogni attività in Italia. Per questo i partigiani restano in balia di tedeschi che invece non spostano le loro truppe che restano qui a disposizione. È una sconfitta bruciante per il movimento partigiano che ha lasciato strascichi. Per esempio un'antica polemica oggi superata ma un'antica polemica sul fatto che gli angloamericani anticomunisti avrebbero lasciato campo libero all'azione tedesca per sterminare le forze partigiane di impronta socialcomunista. Naturalmente non c'è alcun fondamento in questo ma si può capire questo pensiero nel clima della sconfitta di allora e nel clima incandescente della guerra fredda che stava esplodendo soltanto pochi anni dopo. e nel clima incandescente della guerra fredda e nel clima incandescente della guerra fredda e nel clima incandescente della guerra fredda che stava esplodendo soltanto pochi anni dopo. e nel clima incandescente della guerra fredda